Ciao, sono tornati su Violante contro papà Ed è stai giocando l'Xbox Oggi per fortuna apriremo il LOL Serie 4 Mi devo dare l'estate Mi dai l'estate, devi aprire e basta Andiamo ad aprirla Vai, è la nuova LOL Serie 4 4 4 Questa LOL si può trovare a Santeram Qui sponsorizziamo Oppure ce la chiedete a noi E noi vi daremo gli indirizzi speciali Dove averla in anteprima Wow È la prima Quindi prima devi vedere gli indizi Quindi non puoi aprire Indizio Non c'è niente di indizio Come no? Violante Vai Ti aiuto? Ti aiuto? No, ce la faccio Spagna come era ieri? Polla Vai, vai Su, 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 su Ti giuro Ti giuro che è un tralara Come lo tralara? Guarda Vai Vai Ma guarda che fai Ma guarda che fai Tranne questi due Devi guardare questi quattro Dai E devi guardare E tu mi apri Dai E tu mi apri le sacche Grande Grande spiega a tutti come devi fare Aspetta Qua sotto c'è un'altra Non devi trovare le combinazioni? Sì ma Non Aspetta L'indizio è questo E neve E' buona Fa vedere a tutti quanti che cosa hai trovato? Queste scarpette Qua ci abbiamo un'altra combinazione Che fuoco e neve non può essere Quindi Se abbiamo fatto adesso Che cosa devi trovare? Rispondo Ehm Questo non è E non Il diavoletto Ehm Ora la corona Vabbè non lo so Il diamante Qual era? Pioggia E sole E Fa vedere Che c'è mamma? Fa vedere E' questa? C'è È difficile Corona 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 Ma io voglio vedere Sul dupletto Se è ultra rara No Non è Quei Non è diamante Non è ultra rara? Sì Sì È anche disegnato Su tutte le E la mia è fortuna Io Ma la parte più bella E il diavoletto non c'è La faccia con il diavoletto Ma con la faccia arrabbiata No Ma con c'è Si è aperto Caramella E limone Dove ti fa vedere agli altri Che sennò non si capisce niente Vai Ma perché è così grande? Ora papà guarda C'è bisogno di attaccare gli occhi No Di stoccare la gomma Fala vedere Fala vedere a tutti È pieno di zunzaline È pieno di zunzaline Questa cambia colore mamma E questa la avrò io No Ammazza che bella Ammazza che bella Ammazza che bella Questa ultrana La pop art E dopo quello me ne riapro Sei contenta? Frateri Mettigli un po' gli occhialetti Ciao ragazzi Noi siamo la super lol dry E quindi Questa è la Not surprise Quarta serie Come on Ciao ragazzi Ciao